Come hai scoperto un manga? C'era un'edicola piccolissima con una signora anziana che vendeva i giornali e anche in questa edicola dietro Spider-Man, dietro Superman c'erano i manga e un giorno per caso, proprio cercando io cercavo Spider-Man, Superman, vedendo i fumetti facevo come è possibile che ci siano i fumetti di cartoni animati? Quindi, spoilerando le pagine mi rendevo conto che c'erano tutti i spoiler della storia perché chiaramente il fumetto andava avanti, molto più avanti rispetto al cartone animato. E da lì è nata la scintilla, ho scoperto per la prima volta una cosa che mi ha aperto un universo. Ne ho comprati tantissimi, ne ho letti tantissimi, tutte le serie che guardavo e ricordo che un giorno dopo aver finito di leggere tutta quanta la serie di Naruto, così, con egocentrismo immotivato, mi sono detto anche io lo so fare. Anch'io lo posso fare, mi sono detto, non avevo capacità tecniche, niente, disegnavo ogni tanto così per divertimento, ma da qui a fare un fumetto c'è un universo, c'è un mare infinito. Ero il quarto superiore, mancava un anno e avrei dovuto decidere cosa fare nella mia vita post-liceale. Ho scoperto i fumetti, ho scoperto i manga e mi sono detto, si vive una volta sola, perché non provare ad andare in Giappone a fare il mangaka, a disegnare fumetti in Giappone? E così ho deciso di andare a Venezia, l'Università Caposcale di Venezia, che è una delle migliori in Italia per imparare il giapponese, e niente, tre anni di studio e mi sono laureato. Dopo l'università, la prima cosa che ho fatto è stata comprare un biglietto di solo andata per il Giappone. Mi sono detto, vado, vedo che succede. Forse la cosa che non mi aspettavo è stata proprio questa di, la facilità che possono avere gli italiani di avere successo in Giappone. In Giappone c'è appunto questa tendenza a stereotipare l'italiano come il playboy, come la persona poco seria in amore. Il Giappone mi ha fatto diventare estroverso, mi ha dato sicurezza, mi ha fatto sentire in certo senso bello con il lavoro del modello, e mi ha fatto sentire, mi ha fatto capire le qualità che avevo, che magari non notavo in Italia. Con il fumetto con Mingo, essendo un fumetto che parla molto della mia storia personale, sono molti elementi autobiografici, ho potuto approfittare di questa occasione per magari far capire al lettore giapponese che non siamo tutti quanti così, insomma, che ci sono anche ragazzi che assomigliano molto più ai giapponesi che ai italiani. Io mi sentivo molto più giapponese che ai italiani, in un certo senso. Mi sentivo molto più vicino ai lettori di manga che non ci sapevano fare con le ragazze, mentre magari loro si aspettavano che io fossi veramente uno che non riesce a essere serio con una relazione seria. Io l'unica cosa che volevo era una relazione seria con una ragazza. Il Giappone mi ha permesso di realizzare il mio sogno proprio per il fatto che non mi ha mai pregiudicato. Portare il lavoro in casa editrice da me, che ero un 18enne italiano con un livello di giapponese non incredibile, sono sempre stato comunque approcciato, sono sempre stato in grado di avere conversazioni e a livello estremamente professionale con editor che lavoravano magari con fumettisti a livello mondiale. Mi piacerebbe chiaramente anche lavorare in Italia, è una cosa a cui non ho mai pensato. Anzi, a dire il vero, ho sempre immaginato un po' la mia carriera in questo modo. Mi sono sempre immaginato che se di queste sarebbero andate bene, io sarei riuscito a essere pubblicato in Giappone e con il successo in Giappone mi avrebbero poi aperto le porte in Italia, che poi credo sia quello che è successo e che è quello che è adesso la mia realtà. Ovvero adesso penso che se dovessi tornare in Italia molte case editrici mi aprirebbero le loro porte, perché ho una storia alle spalle, ho la storia di Mingo del lavoro che ho fatto in Giappone, adesso mi considererebbero senza nessun pregiudizio, diciamo. Grazie a tutti.